Il 28 dicembre a Cagnano a Miterno, un piccolo paese di quasi 1300 abitanti della provincia aquilana, Abruzzo dal Vivo ha regalato e realizzato uno spettacolo per i bambini del borgo. Grazie alla compagnia Glug, i piccini hanno potuto abbandonarsi al fascino di Re, Gnomi, Principesse e Fate, protagonisti di alcune leggende dolomitiche. Una fiaba raccontata utilizzando l'incantevole arte del teatro, marionette varie pinte e scenografie coinvolgenti sono state lo sfondo perfetto di un pomeriggio diverso dal solito, dove poter respirare un mestiere fatto di sola creatività e tanta passione. Sindaco, si aspettava così tanta partecipazione? Beh, in questi giorni penso che la partecipazione delle famiglie è molto importante, soprattutto la presenza di tanti bambini che hanno riso, si sono divertiti e questo è stato veramente un momento di spensiratezza. Vi ringraziamo, ringraziamo il teatro Glug di questa serata, perché in questi territori, soprattutto i bambini, hanno bisogno di tornare nelle piccole cose delle fiabbe, le fiabbe che insegnano e che sono sempre alla base delle nostre emozioni. Quindi vi ringraziamo veramente per questa serata e soprattutto di essere in questi territori, territori della montagna, territori che hanno vissuto diversi eventi sismici dal 2009 al 2016-2017 e questo spettacolo è il segno della rinascita come attività ordinaria. E partiamo con la fiabba, grazie veramente a voi.